La Repubblica Araba Unita è stata la prima e unica realizzazione dell'utopia del panarabbismo. Dietro c'era Nasser. Nasser è stato forse il più grande dei leader arabi. Era già da studente, già da giovane studente, aveva partecipato alle manifestazioni indipendentiste egiziane. A quel tempo in Egitto regnava Farouk sotto il protettorato britannico. E poi era entrato nell'esercito perché pensava che l'esercito fosse la via migliore per riformare l'Egitto. E da lì via via, prima con il sostegno, aveva creato il gruppo dei liberi ufficiali. Questo gruppo dei liberi ufficiali in un primo tempo operò insieme a un altro nascente organismo, che era quello dei fratelli musulmani, e in seguito però se ne distaccò. Nasser diventò nel 1956 il leader indiscusso dell'Egitto e cominciò a impegnarsi per il panarabbismo. Cos'è il panarabbismo? Il panarabbismo è un'ideologia tutta diretta a riunificare il mondo arabo-islamico in una specie di grande federazione. È una cosa che ha avuto il massimo sviluppo e il massimo risultato con la nascita della Repubblica Araba Unita, cioè con un accordo tra l'Egitto e la Siria. Di questa federazione avrebbe dovuto far parte anche l'Iraq, dove c'era stato un colpo di Stato, ma poi la cosa non si fece. Dopo soli tre anni la Siria andò via perché l'Egitto era troppo egemone. Nasser ebbe un grande successo di critica anche a livello internazionale, non solo nel mondo arabo, cominciò ad applicare delle riforme di tipo socialista, però era un socialismo non come quello all'europea, ma era un socialismo che comunque aveva un fondamento religioso, cioè era un socialismo islamico. Com'è finita? Il panarabismo non andò mai fondamentalmente oltre questo risultato, è finito con la guerra del Golfo ed è stato definitivamente sepolto con le primavere arabe.